Scopri il segreto di Siri e Alexa! Benvenuti nel mio canale dedicato all'intelligenza artificiale. Oggi esploreremo il riconoscimento vocale, una tecnologia che sta trasformando il nostro rapporto con i dispositivi attraverso assistenti vocali come Siri e Alexa. Vi siete mai chiesti come Siri e Alexa riescano a comprendere le nostre parole? Questi assistenti vocali utilizzano algoritmi avanzati per trasformare il linguaggio parlato in comandi digitali, rendendo la tecnologia più accessibile. Il riconoscimento vocale ha origini lontane, ma è stato con Siri e Alexa che ha raggiunto nuove vette. Questi strumenti sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana grazie alla loro facilità d'uso. Il processo di riconoscimento vocale si articola in tre fasi principali. Inizia con l'acquisizione del segnale audio, prosegue con l'analisi linguistica e si conclude con l'interpretazione del significato, offrendo risposte immediate. La fase di analisi audio è essenziale. I suoni vengono convertiti in dati digitali. Questo passaggio fondamentale permette ai modelli linguistici di elaborare correttamente le informazioni, migliorando l'interazione con l'utente. Benvenuti nel mio canale dedicato all'intelligenza artificiale. Oggi esploreremo come Siri e Alexa interpretano le parole attraverso modelli linguistici avanzati, trasformando semplici suoni in comandi comprensibili e azioni concrete. Questi assistenti vocali utilizzano sofisticati algoritmi di macchine learning per riconoscere i modelli linguistici, permettendo loro di comprendere accenti diversi e persino slang. La potenza dell'AI rende possibile questa straordinaria capacità di comprensione. L'importanza dei dati è cruciale. Siri e Alexa elaborano enormi quantità di informazioni per migliorare costantemente la loro precisione. Questo processo di ascolto continuo perfeziona la loro capacità di risposta. Ma ti sei mai chiesto come funzionano offline e online? La differenza sta nella capacità di elaborare comandi senza connettività, una sfida tecnica che pochi dispositivi affrontano con successo. La privacy è una questione centrale. Siri e Alexa non ascoltano costantemente. Le aziende garantiscono che le registrazioni vengano attivate solo con frasi di attivazione specifiche, proteggendo così la tua riservatezza. Benvenuti nel mio canale dedicato all'intelligenza artificiale. Oggi esploriamo come Siri e Alexa si evolvono nel tempo. Grazie agli aggiornamenti regolari, migliorano costantemente le loro capacità di comprensione e risposta. Con l'uso quotidiano, Siri e Alexa apprendono le nostre abitudini, adattando i loro servizi alle nostre esigenze. Questa personalizzazione le rende strumenti sempre più utili nelle attività quotidiane, semplificando la nostra vita. Una delle sfide principali per il riconoscimento vocale è gestire accenti e dialetti. Siri e Alexa lavorano costantemente per migliorare la loro precisione, rendendo l'interazione più fluida e naturale per tutti. L'intelligenza artificiale e il riconoscimento vocale formano una sinergia potente. Questa collaborazione consente a Siri e Alexa di comprendere meglio il linguaggio umano, migliorando l'interazione con gili utenti e aprendo nuove possibilità creative. Scopriamo cosa possiamo chiedere a Siri e Alexa, dalle semplici ricerche online alla gestione completa della casa smart. Le loro capacità si espandono continuamente, rendendo l'assistenza vocale un alleato indispensabile. Benvenuti nel mio canale dedicato all'intelligenza artificiale. Siri e Alexa stanno diventando sempre più personalizzati, adattandosi alle nostre abitudini e preferenze per offrire un'esperienza utente unica e su misura. Esploriamo il mondo affascinante dell'AI, dove Siri e Alexa anticipano i nostri bisogni, apprendendo costantemente dai nostri comportamenti per migliorare le loro risposte e suggerimenti, rendendo la tecnologia sempre più parte integrante della nostra vita. Scoprirete come l'intelligenza artificiale, attraverso innovazioni come Siri e Alexa, ci aiuta a gestire le attività quotidiane con maggiore efficienza, interpretando comandi vocali complessi e adattandosi alle nostre richieste uniche. Queste tecnologie non solo risolvono problemi complessi, ma anche innovano in vari settori, migliorando la nostra vita quotidiana con aggiornamenti regolari e funzionalità avanzate che rendono l'interazione più fluida e intuitiva. Prova oggi stesso a scoprire di più su Siri e Alexa. Questi assistenti vocali offrono un assaggio del futuro del riconoscimento vocale, spingendo i confini di ciò che è possibile con l'AI.